Ciao a tutti, sono Elisa Brocar. La Valle d'Aosta ora più che mai sta vivendo un momento difficile come in tutta Italia. È giusto rimanere uniti e seguire le semplici regole che ci vengono spiegate da ormai diverse settimane. La più importante di queste è sicuramente quella di stare a casa, quindi mi raccomando state a casa e approfittate di tutto il tempo che avete per fare quelle cose che magari avete sempre messo da parte. Io ne approfitto per fare un po' di pulizia a casa. Ciao!